buongiorno a tutti ecco qua ragazzi guardate che meraviglia 6 di luglio guardate che bello siamo qua in palizzata a portocursini dove dopo domani veniamo a pescare le orate le orate le orate guardate che bello che meraviglia nonostante ci siamo svegliati ieri sera abbiamo appreso una brutta notizia vero Frenchy è morta la nostra amata Carrà sempre grande dall'assù ci proteggerà la Carrà è l'unica la Carrà è l'unica Carrà per me era un mito quando ero piccolina mia nonna mi diceva sempre una frase Frenchy bevi il crodo perché così fai le cosce come la Carrà ma veramente la Raffa mi è dispiaciuto tantissimo veramente non è una frase fatta ma penso a tutta Italia è dispiaciuto veramente tanto la Carrà è l'unica che sa fare tutto ma quando dico tutto tutto era un voi lo sapete insomma un angelo veramente un angelo l'unica l'unica poi romagnola come noi ma non per questo insomma è una star a 360 gradi penso che come lei non ce ne sono ma non è che lo penso io ti guardavi il tuo e avvenuti qua a fare un giretto qua è bellissimo guardate abbiamo il mare qui c'è la nostra stradina e il mare del Puglio piattaforme là in fondo che estraggono il gas metano dotti e qua dopo la pala eolica vedete c'è gente che pensa e si dice che dopo la pala eolica adesso vi faccio vedere se venite a pescare a Porto Corsini vedete dopo questa pala ci prende meno e quindi il trucco sarebbe andare da adesso mi allestisco come i vecchietti Frenchy e ci allestiamo la bicicletta da pescatori perché c'è un po' di chilometri da fare lunga questa strada quindi a piedi dai più che altro con l'attrezzatura vero Fred? ci attrezziamo quest'anno i pescatori i bimbi gamers tua sorella non piace la pesca quindi veniamo io e lui a mio marito non piace la pesca quindi più che bimbi gamers è family gamers è stata eh va bene guardate qua paleolica che gira pom 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 guardate che bello vento che è una boa guardate qua che meraviglia è il mezzogiorno è passato tra un po' andiamo a mangiare cappelletto ah che bello pomeriggio ci buttiamo in piscina allenamento piscina dopo l'allenamento in bici di stamattina andiamo a vedere qua i pescatori veri così guarda ma che bello guardate 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 come è grande la paleolica guarda Fred? è immenso è immenso guarda che bella guarda guarda che bella paleolica oh qua ancora abbiamo percorso guardate qua che meraviglia il mare si senti il rumore è Fred? allora ci vediamo a pescare io vengo non con te vengo con la mia amica a pescare le orate no guardate ragazzi la meraviglia mi fermo per farvi sentire il mare sentite che bello ah qua ci sono i fogli andiamo dentro con la bici meraviglia che bello là è Porto Corsini l'avanti è Marina Romea dall'altra parte c'è Marina di Ravenna e così dai giovedì caccia all'orata con Costa Bibi e proviamo anche i gamberetti ciao